Sì, c'è già qui la mia richiesta praticamente di tuttissima di parte. Facciamo tutte le cose, si parte qui dei tuoi canali. No, scoppia e seba qui che la faccio a me lo cuore, perché io ci fai il tiguita. Oggi si andava con un'altra, ma un domani avrei solo spazialmente e il suo mangio è con te. Di c***o a te se stai facendo. Anche subito in mezzo, io non ho anticipato quattro e cinque volte. C'era una poeta, ma piace. Avevo come suoi sanno, avevo potuto andare ad avere la I-12 anni da noi. Non c'è di rietta. Certo, avevo fu il buono e manco dopo una settimana ce l'ha spiegato, ma è sicuramente fu lo viso. altre cose diceranno non c'è la stessa decennata però no, vai di cerci sparare e non c'è la notte Quella è una bomba che va camminando allo Zen una bomba esplosiva vuole sparare, vuole ammazzare è ammogliato un po' ade neanche, sarà dentro avessero sbuico, giappone tutti i manami hanno che ci hanno trovato non c'è non c'è ti raccomando, non c'è non c'è la pista non c'è la pista non c'è la pista non c'è la pista allora cacchiamo in sbirro qua è difficile perché ora appena si trova che non si può fare lo facciamo sapere che c'era un sbirro e sa spero che a noi gli dà anche per talvo al suo signore qua mi ha costato a insegnare dove si manda dove si è attualizzato c'è la San Lorenzo che risulta una arenia d'acqua santa diciamo che che la notiamo qua non c'è fuori da cose non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è